Il presidente dell'ente porto di Giulianova, Marco Verticelli, è deciso di invitare appena tutto il quadro sarà delineato in vista delle elezioni i candidati alla guida della regione Abruzzo. Un incontro per parlare del futuro dello Scalo Giuliese e le prospettive che ognuno dei candidati da presidente riterrà di poter tracciare, ma soprattutto per ragionare sui lavori del braccio realizzato in prosecuzione del Molo Nord, i cui interventi sono fermi da troppo tempo. Faccio ovviamente con grande rispetto invitando tutti gli operatori sul porto e invitando ovviamente i candidati presidenti che nel momento in cui saranno ufficiali queste candidature nella speranza che appunto trovino tempo, spazio e volontà per conoscere intanto che cos'è questo porto, perché troppo spesso se ne parla in maniera non impropria e anche per raccogliere indicazioni, per raccogliere volontà, soprattutto idee, propositi. Insomma penso che sia una cosa utile per tutti, sia per loro che per quanto riguarda questa bella realtà che è il porto di Giulianova. Uno dei problemi che riguarda il porto di Giulianova è la questione dei lavori, del prolungamento del braccio. Un lavoro purtroppo fermo a causa della burocrazia? Ma allora intanto precisiamo che noi siamo riusciti in ogni caso a far partire e a completare i lavori a terra, tant'è che c'è un nuovo ingresso nel porto, quindi è molto bello, molto ampio, che ha già dato un'immagine completamente diversa del porto di Giulianova. Siamo riusciti a farlo disincagliare, questo dalle secche amministrative, dalle difficoltà che io ho trovato, però sottolineo sempre il fatto che l'ente porto è del tutto estraneo al procedimento amministrativo e finanziarvi quest'opera. Noi svolgiamo un'opera di sollecitazione e continuiamo a farla ogni giorno, ogni settimana, ed è in programma fra qualche giorno un nuovo incontro con la regione per stimolare una soluzione a breve dal punto di vista finanziario.